La preoccupa questa avanzata delle forze sovraniste in Europa ma anche in Italia? Mi preoccupa la destra, mi preoccupa il razzismo, mi preoccupa una politica di chiusura verso gli immigrati che per un continente come l'Europa, qui età media, è 44 anni, mentre in Africa 19. Un continente vecchio, impaurito, se si chiude al mondo è spacciato. Questa è la verità. Però se noi vogliamo vincere questa sfida dobbiamo saper cogliere un aspetto, cioè dov'è l'elemento di verità del sovranismo? È la volontà di riprendere una sovranità popolare, cioè un controllo politico sui processi economici. Questa esigenza è reale. Questa volontà di affermare una sovranità politica si traduce soltanto in che cosa? Nel impedire ai migranti di sbarcare? E questo è il dominio della politica, cioè nella ferocia contro i poveri, mentre invece il sovranismo è impotente di fronte ai grandi gruppi finanziari internazionali, di fronte ai grandi monopoli dell'informazione, della rete, che sono dominanti e che si possono affrontare soltanto rafforzando l'Europa. A proposito di sovranismo, come le sai, il governo italiano ha concesso alla fondazione di Steve Bannon un bene nazionale, che è questa splendida, certosa di Trisulti nel Frusinate. Bannon ha intenzione di trasformarla in un'accademia di sovranismo per creare tanti piccoli Salvini e tanti piccoli Orban. Possiamo dire che l'internazionale nera ha trovato casa in Italia? Ma io penso che Bannon è sufficientemente ricco per trovare casa da solo, senza che gli lo debba dare lo Stato italiano. Secondo lei che sta succedendo? Cioè l'Italia sta diventando un paese razzista? È una società invecchiata e impaurita, diciamo, che da questo punto di vista reagisce a questa percezione di invasione che non ha nessun fondamento, perché l'Italia è un paese che ogni anno si spopola un pochino. La destra cavalca queste paure, le alimenta, una politica irresponsabile, i cui effetti non solo sono pesantissimi dal punto di vista dei prezzi umani. Io ho letto un rapporto della Brookings, che è un'istituzione americana, sulle condizioni dei migranti in Libia, che è impressionante. Impressionante. Uno degli effetti di queste politiche di blocco è di avere consegnato centinaia e centinaia di migliaia di persone al dominio incontrollato delle milizie, alle violenze, allo sfruttamento delle persone, altro che il traffico degli esseri umani. Noi questi esseri umani li abbiamo consegnati, diciamo. Ma oltretutto io penso che l'effetto di medio periodo è che diventeremo un paese nel quale la popolazione in quiescenza, cioè i pensionati saranno di più di quelli attivi. A quel punto non so come reggerà il sistema sociale, le pensioni, le pagherà Salvini, diciamo. Quindi c'è un elemento di brutalità, ma c'è anche un elemento di incultura e di mancanza di visione del futuro del paese. Pochi giorni fa c'è stata questa strage in Nuova Zelanda. È stata la prima strage ripresa in diretta Facebook che ha ammietuto 50 vittime di fede musulmana. Matteo Salvini si è precipitato a dire che l'unico terrorismo di cui bisogna preoccuparsi in Italia è solo quello islamico. Lei cosa risponde? Non c'è poco da rispondere. La risposta è nei fatti, diciamo. L'unica cosa veramente stupefacente è che una personalità rozza, diciamo, e come Salvini possa godere di una qualche popolarità in un paese civile come l'Italia. Come servizio pubblico abbiamo eseguito una ricerca dalla quale è emerso che le parole d'ordine usate dal terrorista neozelandese sono le stesse o comunque molto simili a quelle usate dalla destra sovranista italiana, rappresentata appunto da Salvini e Meloni. Perché di questo nessuno si scandalizza? In fondo anche il terrorismo di sinistra usava parole della tradizione della sinistra per giustificare atti criminali che non avevano nulla a che vedere con la nostra storia. Quindi io starei attento, diciamo, a costruire catene di responsabilità. Però non c'è dubbio, diciamo, che un certo clima contro gli immigrati viene creato anche irresponsabilmente da parte di chi contro gli immigrati o contro l'Islam, diciamo. Viene creato anche da chi agita queste paure al fine di costruire un facile consenso, diciamo. La convivenza con gli altri è sempre qualcosa di molto complesso, di molto delicato. Richiederebbe alla politica, a tutti i settori della politica, una particolare responsabilità. E poi anche il cosiddetto terrorismo islamico ammietuto le sue vittime molto nel mondo musulmano stesso. Il mondo musulmano è soprattutto vittima. Questa è la verità. Almeno stando ai numeri, stando ai fatti, diciamo. E viene raffigurato invece come una minaccia. Certo, lì dentro c'è una minaccia, ma ripeto, quella minaccia colpisce anche il terrorismo musulmano, colpisce soprattutto i musulmani. E questo dovrebbe aiutarci forse ad avere un atteggiamento diverso verso questo mondo. Cioè a capire che dobbiamo combattere insieme i germi della violenza, dell'intolleranza, ovunque essi si manifestino.